Buonasera e ben ritrovati amici e appassionati di arte contemporanea a un nuovo appuntamento settimanale quello in D in galleria su Seila TV canale 216. Settimanalmente conduco questa trasmissione appunto dedicata all'appassionante e intrigante mondo dell'arte contemporanea e settimanalmente vi presento artisti che anch'io conosco magari per la prima volta come nel caso di questa sera. Mi piace narrare le loro storie che sono molto appassionanti, molto intriganti, mi piace parlare con loro ed approfondire tutto quello che è l'aspetto tecnico che poi porta a compimento un'opera d'arte. Questa sera tra l'altro contrariamente a quello fatto fino adesso nell'arco delle precedenti puntate vi parlo di vetro quindi di una tecnica molto particolare e ospite questa sera del mio salotto Sabrina Golin. Bentrovata Sabrina. Lei è l'accento lo capirete poi durante la puntata è tipicamente Veneto perché vivi e lavori in un paesino vicino a Vicenza da ormai da una trentina d'anni però sei originaria, sei nata in Sudafrica, a Johannesburg, città peraltro bellissima. Sì, praticamente sono venuta su che avevo 15 anni quindi le scuole e tutto quanto le ho fatti lì fino alla seconda superiore, dopo siamo partiti per sempre per ritornare alle origini dei genitori che sarebbe proprio Vicenza. Ah perfetto, sì tra l'altro la mamma la dobbiamo salutare perché so che è una nostra appassionata, tra l'altro anche lei è appassionata d'arte, ci segue periodicamente sul nostro profilo Facebook di In Galleria che è In Galleria con Mario Mazzoleni, lei settimanalmente segue le varie puntate quindi... È proprio un fan. Esatto, dobbiamo necessariamente salutarla, me l'ero appuntato. No ma a parte gli scherzi questa sera voglio parlare di una storia molto bella perché Sabrina Golin inizia quasi per caso ovviamente però nulla nasce per caso e lo vedrete poi quando parleremo dei suoi lavori non possono essere frutto del caso, evidentemente lei nasce con questa predisposizione artistica con questo estro, con questo talento che però non scopre fino a un certo punto della sua vita poi arriva un momento che dice in modo totalmente autodidatta, dice forse è il caso che smetto di fare quello che prima facevo e inizio a fare l'artista peraltro con grandi risultati. A quanti anni, ecco parlaci un po' della Sabrina Golin artista, quando scopri questo talento e come inizi? Allora lì praticamente a livello scolastico ho sempre stata bravissima e anche ho vinto il trofeo a scuola perché in Sudafrica ogni finito i sette anni di scuola quando si vanno i superiori lì praticamente premiono l'alluno migliore del tutto l'anno scolastico in varie materie e io quell'anno lì con sorpresa ho ricevuto proprio il trofeo e il libro d'arte proprio per l'arte e da lì è finito tutto lì, dopo sono venuti su in Italia e mia mamma sapeva che sotto sotto c'era qualcosa di creativo Un animo creativo, esatto. E allora mi ha detto dai mi ha regalato proprio lei pennelli tutto quanto le prime opere le ho fatti perché lei mi ha proprio regalato tutto Noi abbiamo una bellissima fotografia che tu hai portato che stai dipingendo una parete vite quella è nata cinque anni fa No, per sbaglio è nata questa, questo perché c'è questa vetrata che era rotta e era la seconda volta mia mamma ha detto guarda non sta, cioè fammi qualcosa per migliorare questa vetrata e allora lì ho acquistato tutti i colori vitria per la prima volta mai usati quindi da lì è nata questa vetrata e pian piano in un mese l'ho creato e quei colori avanzati, ho comprato dei vasetti e da lì è nata tutta questa Tua grande passione Le vedi oggi giorno in cinque anni del lavoro che adesso è diventato il mio lavoro La cosa bella è, abbiamo spesso sottolineato anche tutte quelle che sono le varie fasi tecniche perché la gente e i telespettatori che ci seguono da casa si vogliono conoscere la storia dell'artista ma vogliono anche cimentarsi in quello che è proprio l'aspetto puramente tecnico e il tuo è particolarmente interessante perché nonostante tu sei un po' pittura classica su tela e sui vetri ovviamente fai, adesso mi sembra di capire, molto più lavoro sul vetro che sulla tela ma in entrambi i casi utilizzi questa pasta vitrea che sarebbe tipicamente da vetro però in realtà poi tu l'hai adattata anche alla tela in modo meticolosissimo cioè tu ci impieghi un'eternità per fare, infatti leggevo un tuo scritto dove parli che non è importante per te quanto tempo impieghi ma è importante per te poiché chi guarda i tuoi lavori rimanga estasiato ed effettivamente se tu lo guardi non con superficialità ma con grande attenzione ti rendi conto che non può che rimanere abbagliato di fronte a un tuo lavoro che è fatto da una moltitudine di puntini di dimensioni e colori diversi che crea il mio unicità del modo di dipingere proprio per stupire anche perché è bello quando uno si ferma non è che vede il solito dipinto e lo studia dopo, lo vede, lo guarda e sta lì guarda ecco perché apparentemente il tuo potrebbe, ha dell'influenza africana quindi le tue origini traspaiono dal dipinto che ad esempio adesso stiamo guardando e visto da una certa distanza potrebbe sembrare un dipinto tipicamente figurativo tu rappresenti molto la donna nel mondo, hai dei colori molto belli in realtà se poi lo faremo ovviamente abilmente sfruttando la bravura del nostro regista se inquadriamo invece da vicino quel quadro ti rendi conto che oltre all'aspetto figurativo quindi tu spiegaci se ne ha prima dipingi è dipinto praticamente di fantasia che dopo magari l'ispirazione può venire anche da varie cose che uno magari gli invoglia di fare in questo caso è perché mi ero ispirata proprio a un famoso artista russo che sarebbe tipico arte armeno questo e questo artista che si chiama, se mi ricordo anche il nome è Abraham, adesso mi ricordo il cognome comunque è abbastanza famoso a livello mondiale e lui crea queste donne, queste specie di donne che dopo io gli ho preso un spunto ma me lo sono proprio rivoluzionata sì certo dando un po' quelli che sono i tuoi colori a modo mio completamente stavamo dicendo prima che invece guardandolo nel particolare da vicino è composto invece da un milione di puntini di questa pasta vitrea che tu uno a uno vai a puntinare la tela dando anche matericità perché sono in rilievo guarda in questa quadratura si vedono benissimo i particolari la mano, questi puntini quindi una volta fatto quello che è il dipinto il dipinto curato come un dipinto che potrei anche lasciarlo come certo immagino sì è bellissimo già solo che dopo devo fare proprio creare più forte di me quindi lo impreziosisci andando a lavorare è proprio quella la bellezza il divertimento per me quindi vai a puntinarlo tutto con questa pasta vitrea lì è proprio la voglia di creare e stupire poi sono attirata da tutto quello che brilla che è proprio quello che mi piace di creare tutta questa coreografia e com'è che la applichi questa pasta vitrea? niente è un tubetto infatti adesso non l'ho neanche portata comunque è un tubetto io parto da un puntino e vado avanti cioè ormai è diventato come si dice come scrivere perfetto una puntina tua guarda infatti ma sono veramente una dal vivo fanno davvero nel senso buono del termine stavo dicendo fanno paura ma facendo un complimento perché sono una moltitudine di puntini di colori diversi e poi che tempo di asciugatura ha questa pasta vitrea? beh questo veloce dopo io con la scusa gli do anche le bernice sopra quindi viene proprio se asciuga benissimo molto più veloce dell'olio quello che c'è sotto insomma quindi praticamente devi prima aspettare che si asciuga il quadro e dopo cominci con la coreografia e vai avanti a divertirti quindi il tuo è una ricerca di abbellire un qualcosa già di per sé molto bello perché effettivamente mi piace sottolineare dal punto di vista tecnico e realizzativo la fattura delle tue donne ad esempio hanno un volto molto bello molto elegante che denotano certamente un grande talento tuo dal punto di vista artistico quindi il tuo non è solo un lavoro di ornamento che potrebbe essere più da artigiano di fatto mi piace sottolineare perché lo faccio sempre in questa trasmissione mi piace parlare di artisti molto bravi gli artisti poco bravi li lascio trattare e descrivere agli altri io preferisco parlare di quelli bravi e tu sei sicuramente tra quelli molto bravi e lo si vede dai particolari dalle mani dai volti di queste donne abbiamo altre fotografie di tuoi lavori un tema ricorrente è gli animali nel tuo lavoro l'Africa e il savanna soprattutto i felini quindi è un qualcosa che ti è rimasto il Sudafrica Johannesburg ti è rimasto nel cuore sì sì l'Africa poi ho tutti gli amici lì qui abbiamo messo insieme una fotografia molto bella c'è questa tigre bellissima da un lato leopardo leopardo hai ragione da un lato a sinistra questo vaso molto bello con il leopardo in un atteggiamento piuttosto aggressivo di là invece più sordione sembra stia cercando inquadrando una preda qui unisci in entrambi i casi la pittura tua su vetro e la pittura invece sì perché adesso proprio la bellezza cioè quello che io ormai il mio lavoro è il vetro perché ho tanti c'è praticamente lavori su commissione anche e il vetro adesso proprio punto su fare la coreografia con l'abbinamento con il quadro in modo da avere l'alternativa che se uno gli piace il vaso può prendere tutti e due e proprio se gli piace proprio vederli tutti e due insieme o uno o l'altro insomma dipende che dopo ci sono i gusti dal punto di vista tecnico ci chiederanno da casa me lo chiedo anch'io e quindi ovviamente ti pongo questa domanda è più difficile guarda questo è un altro quadro molto molto bello tuo ispirato invece a Venezia quindi alle maschere anche questo dal vivo potrebbe apparire un quadro molto bello figurativo colorato allegro metti allegria ecco una cosa dovessi inquadrare il tuo modo di dipingere è sicuramente armonioso allegro per via dei colori e anche di ciò che rappresenti ti stavo dicendo è più difficile lavorare su una superficie piana come la tela o su una superficie tridimensionale come il vetro il vetro è difficilissimo bisogna dirlo che veramente è una tecnica che penso che tanta gente non arriva a farlo non arriva a farlo per tempi i tempi sono lunghissimi e devi continuamente ripassare perché c'è la trasparenza quindi per ottenere l'effetto mio che faccio io devi avere intanto la mano precisissima e vietatissimo sbagliare ora che bella anche questa con il doppio volto questo è un vaso che praticamente uno e i lati insomma quindi quattro lati rappresentano una parte del volto di quattro felini diversi quindi anche questo faccio notare la parte straordinariamente curata sopra che sembra quasi un ornamento di pizzo invece in realtà è un ornamento fatto con questa puntinatura di pasta vitrea io devo dare due minutini Sabrina la linea alla regia per la pubblicità torniamo tra poco e ci addentriamo nuovamente nello straordinario mondo di Sabrina Golin a tra poco rieccoci Sabrina Golin è artista nata a Johannesburg in Sudafrica ma di fatto vicentina visto che i genitori da lì arrivano e tuttora vive e lavora stiamo parlando con lei questa sera della tecnica pittorica su vetro oltre che su tela però con l'utilizzo di questa pasta vitrea che caratterizza il tuo lavoro il vaso che abbiamo davanti è di una bellezza secondo me impressionante perché ha tutta questa parte sopra perfettamente lavorata tu non hai mai avuto occasione di contare i punti perché sono qualche milione effettivamente che compongono guarda ti dico è una cosa impressionante anche qui una di quelle donne che tu citavi prima molto bella molto raffinata il volto è particolarmente bello e poi tutti questi puntini di colori diversi quindi tu questa pasta vitrea si trova ovviamente con tutte le tonalità di colori no devi crearli non è come l'olio che hai una gamma molto più vasta no qua devi proprio crearti i colori mischiando guarda guarda è bellissima l'incredratura perché ovviamente si vede una parte il corpo della donna che è abilmente dipinto il volto e poi tutti i capelli i particolari che invece sono composti da tutti questi puntini in rilievo che rendono uniche le tue opere tu ovviamente ti stai dando un gran da fare come mostre per farti conoscere quante opere produci Sabrina mediamente in un anno è difficile dire perché dimettiamo che un'opera del genere ci mette un mese a farne una quindi quando comincia a essere opere del genere ci mette dopo ci sono logico i decanter quelli che abbiamo infatti una fotografia sempre dei vasi che hanno ovviamente delle misure più piccole mettiamo un decanter ci mette una settimana quindi è un lavoro molto lungo lungo non è che riesci lavori anche molto ecco guarda stavamo parlando giusto di un decanter ed eccolo qui qui invece il soggetto è la natura i fiori la frutta la frutta i fiori ecco lì praticamente questo è sempre molto un lavoro lungo uno pensa perché è piccolo invece a volte non lo posso immaginare assolutamente sono lavori lunghi lunghi anche perché è dipinto anche nella parte interna quindi in modo molto meticoloso sì e stai facendo mostre un po' in tutto il nord Italia sì quello che riesco a trovare selezionando perché giustamente bisogna selezionare e fammi conoscere più che posso girare perché anche essendo una novità non è che al momento vai in giro non c'è la concorrenza come può essere magari sulle opere dipinti qua invece c'è una cosa unica che stupisce molto io vedo qual è l'impatto ovviamente stupore penso sia la parola giusta è incredibile vedi proprio la gente anche riesce a tirare anche le persone che non hanno interesse nell'arte passano e restano colpiti si fermano tutti a guardare veramente questo è un altro lavoro che abbiamo alle nostre spalle quindi peraltro tu hai lo possiamo dire tranquillamente questo crystal art diciamo è un po' il tuo pseudonimo tu hai un profilo attivissimo su facebook ma anche questo www.sabrinacristal.it che mi dicevi prima che era questo è un catalogo che tu mi hai portato oggi molto bello e mi hai detto che hai un sito nuovo quindi molto aggiornato il mio sito è bellissimo quindi il video è veramente bello dove possono trovare sia la parte della Sabrina Golin pittrice su tela che pittrice artista un po' il mio mondo il tuo mondo il tuo mondo hai delle dove vuole arrivare Sabrina Golin in alto voglio veramente portare il mio mondo cioè il mondo dell'arte una novità portarlo in giro per il mondo insomma far vedere anche perché a livello facebook l'utilizzo moltissimo come pubblicità e ho continuamente richieste di amicizie cioè veramente la gente mi segue sono innamorati dell'arte peraltro noi ci siamo anche conosciuti attraverso facebook col profilo della galleria il tuo profilo artistico eccetera quindi ovviamente io ho creato proprio il mondo di facebook ho tantissimi amicizi a livello artisti in giro per il mondo bisogna dire che il mondo dell'arte è meraviglioso perché ce n'è di tutto di tutto e di più tutti i colori ed è bello seguirlo a livello proprio professionale facebook lo uso per quello soprattutto per farmi conoscere ed è bello far vedere insomma ogni volta che io eseguo un'opera lo dispongo la pubblichi certo chiaro alla fine è una galleria una galleria virtuale di fatto virtuale molto meglio di tante a volte tante mostre che magari non hai la soddisfazione della gente lì hai logico che invito a vederli dal vivo sì perché effettivamente credimi anche io quando ti ho conosciuto e ho apprezzato esteticamente questa galleria virtuale sono andato a guardarmi perché il lavoro mio è quello diciamo mi piace autodefinirmi talent scout quindi guardare artisti giovani e far sì che il mio lavoro diventi una sorte di collaborazione nel lavoro del processo di valorizzazione perché poi il mondo dell'arte come sai e come ti stai rendendo conto è anche abbastanza complesso ha delle insidie perché ci sono purtroppo delle persone non sempre correttissime ovvio che tempo fa prima di Natale quando tu avevi fatto visita alla mia galleria di Alzano portandomi dei lavori effettivamente la mia opinione su di te non dico che è cambiata perché c'era un vivo compiacimento ed apprezzamento anche prima ma certamente è mutata perché i tuoi lavori vanno visti vanno toccati proprio fisicamente poi essendo anche tridimensionali vanno proprio toccati per me le opere vanno toccate in generale le opere vanno viste da vicino infatti io non credo tanto nelle vendite online perché io trovo giusto che quando una persona acquista un'opera che lo vede si la tocchi senza ora di dubbio è molto difficile secondo me acquistare un'opera online se prima non lo vedi da vicino è importantissimo non hai mai pensato di introdurre anche lì l'astrattismo nei tuoi lavori o hai intenzione per ora di continuare su quello che è la figura no no infatti l'idea è anche quella perché dovrei avere 48 ore una giornata per fare tutto quello che mi ha veramente io non riesco di notte alla fine lavoro con la mente perché sei sempre là che tra l'altro tu possiamo ricordarlo perché è anche una bella cosa dico sei anche mamma di due figli quindi effettivamente penso che tu abbia qualcosa da fare anche al di là del tuo studio ormai posso dire che sono autosufficiente anzi mi aiutano loro perché sono fortunata anche il marito che mi aiuta perché sarebbe molto molto difficile da sola far tutto sì posso imaginare quindi la golin dei prossimi anni sarà anche quella in versione astratta? chi lo sa speriamo che riesco io sono molto poliedrica e mi piace anche tantissimo non solo il multicolor perché a volte faccio anche le cose monocromo che poi fondamentalmente se lo vogliamo guardare bene il quadro dietro ha un qualcosa di astratto sì perché al di là di quello che è la figura di queste donne di questi corpi molto belli e sinuosi però ci sono anche dei fiori dall'altro lato ci sono anche delle parti che sono ipoteticamente astratte notavo anche l'utilizzo dell'oro sì perché come ho detto tutto quello che luccica a te atrai a me atrai cerco sempre esperimento io trovo questo foglio d'oro addirittura da 4 anni che l'avevo in casa dentro un barattolino e io ho detto adesso proviamo lo tiro fuori a trovare la giusta collocazione anziché nell'armadietto la mettiamo su qualche quadro quindi hai in programma alcune mostre future che tu adesso per il momento ho dei lavori in commissione che devo darmi da fare a lavorare farli e dopo spero il prossimo anno di fare qualcosa di molto selezionato almeno per il livello di arte perché fino adesso non ho fatto grande cose sempre esposizioni abbastanza locali beh ho fatto anche arte padova ho fatto qualcosa di importante però era l'inizio adesso vorrei proprio decolare con una cosa un po' più selezionata anche una clientela più selezionata perché i costi sono abbastanza altini per il lavoro non voglio svendere il mio lavoro perché non ho bisogno per il momento sinceramente ho anche chi mi ha aiutato a arrivare fino a questo punto perché io chiamo mio mecenate ma è un grande amico e lui è quello che ha creduto in me che cinque anni fa ha cominciato a commissionarmi i lavori e infatti uno dei primi lavori che ho fatto per lui era proprio un lavoro per Christian Maggio uno dei giocatori nostri nazionale che tra l'altro è dalle tue parti no? sì sì è proprio di Montecchio Maggiore delle zone e lì sarebbe praticamente suo padrino di battesimo e lì mi ha detto provare a fare questa opera per lui che si sposava che è capitano di Napoli io ho fatto il Vesuvio su un vaso era panico perché le prime volte insomma qualcosa di bello è nato lì e da lì ha cominciato a commissionarmi i lavori sempre di più e grazie a lui anche perché economicamente è molto costoso questo lavoro il materiale sì è molto costoso non è per esempio un tubo di olio puoi andare avanti a fare parecchie opere quadri qua hai un costo è molto elevato quindi devi avere delle entrate perché altrimenti non riesci andare avanti a fare questo genere di anche i vasi costano cerco sempre di prendere robe solidi e buone insomma non vai a perdere ore e ore su un'opera con rischio che si rompe con una certa facilità chiaro infatti hanno una certa consistenza cerco sempre buona qualità i colori sono quei che sono di massima qualità è un continuo pennelli perché i pennelli devono essere perfettissimi immagino perfetti perché altrimenti lì è vietato sbagliare sul vetro quello bisogna dire se sbagli io devo prendere e cancellare tutto con la lametta e ricominciare da capo quindi evito di sbagliare logico che adesso forza di dipingere diventi sempre più brava e la tecnica anche un po' più veloce perché all'inizio ci mettevo di più adesso mi dedico soprattutto alla coreografia ecco sì certo bisogna vedere adesso perché io ho tante cose in mente quindi tu se volessi definire con poche parole l'arte cosa diresti cos'è per te l'arte I love art per me è amore è passione io tra l'altro ho letto prima una cosa molto bella che mi dice parlava appunto dell'arte che è la cosa più intima è la parte più intima di te infatti non ti pesano le tante ore passate a curare i dettagli delle tue opere la passione l'emozione che esprimono i colori e il talento lo rendono un artista al di là del tempo quindi hai sintetizzato arte per me anche il cibo tutto io vedo arte dappertutto anche solo quando passeggio per il bosco io vedo io osservo io guardo tutto sono molto osservo tutto per me arte sono tanti modi per descrivere l'arte anche per me la cucina la buona cucina la coreografia di un piatto tutto io vedo l'arte l'abbigliamento sanno di te artista a Johannesburg ormai sì perché io anzi grazie a facebook ho avuto il contatto con altri 20 amici che dopo 25 anni che frequentavamo le scuole elementari siamo tutti quanti una squadra e immagino loro sono orgogliose e sapevano che ero brava in arte perché si ricordano e lì c'è questa amicizia meravigliosa anche una bellissima amicizia anche a livello mondiale con gli artisti in tutto il mondo potrebbe nascere una bella mostra personale di Sabrina Golin a Johannesburg a Johannesburg è un po' difficile perché diciamo che trasportare queste opere diventa un problema un grosso problema e i costi del trasporto rischio e tutto quello delle garanzie le devi assicurare perché giustamente però comunque non si sa mai potrebbe essere uno dei tuoi prossimi obiettivi o Johannesburg o altre parti del mondo perché per carità ci sono io ti ringrazio Sabrina per aver partecipato a questa puntata di In Galleria vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova interessantissima artista e auguro a tutti voi una buonanotte grazie grazie